Allora, sono Karel Vacek, vengo dalla Repubblica Ceca e la mia famiglia è molto sportiva perché mio papà è stato professionista a corso in bici tanti anni e da lì è partita la mia passione per la bicicletta. Ho cominciato a pedalare quando avevo quattro anni e da lì sono andato sempre più forte, ho avuto momenti molto lucidi ma soprattutto vale per me quello che voglio raggiungere, vincere un grande giro e gli obiettivi per 2020 sono vincere il più gare possibile e aiutare la squadra per fare bene e questi qua sono i miei obiettivi. Grazie